Ciao, bentornato e benvenuto sul Pensiero Non Lineare. Sono la dottressa Di Maio, psicologa clinica e sono molto lieta di essere anche oggi qui con te per continuare un po' insieme questo viaggio tra e intorno alle stanze della psicologia. Per prima cosa seguo e ti invito ad indossare gli auricolari al fine di avere un'esperienza che sia più coinvolgente. Trova poi una posizione comoda, confortevole, in modo da poter cominciare con me questo viaggio ed essere sereno ed essere rilassato e comodo. Oggi andremo in particolare tra le stanze della mente scissa, andremo un pochettino a conoscere e ad indagare più nello specifico che cos'è la schizofrenia, questo disturbo di cui probabilmente ancora non si conosce tanto bene, insomma la natura in particolare l'evoluzione per così dire del disturbo stesso, però aspetta, aspetta, aspetta adesso allora mettiamoci comodi e partiamo per questo viaggio. Richard ha 23 anni, a scuola riusciva mediocremente, dopo la scuola si arruolò nell'esercito, ricorda Richard questo periodo come uno dei peggiori della sua vita. Circa due anni dopo il ritorno alla vita civile, Richard lasciò il lavoro e fu sopraffatto da sensazioni di sfiducia e rifiutò di cercarne un altro. Restava in casa per la maggior parte del tempo, diventò sempre più lento nel vestirsi ed anche nello svestirsi, nelle cure personali. Quando usciva di casa non sapeva cosa fare, dove andare, se vedeva un semaforo rosso per la strada lo interpretava come segno di non dover andare in quella direzione. Se vedeva una freccia la interpretava come un segno mandato da Dio per procedere in quella direzione. Prese la decisione di rimanere chiuso in casa, ma anche lì era torturato dai suoi sintomi, non poteva agire. Aveva sempre paura di fare la cosa sbagliata, si sentiva paralizzato e stava a letto immobile. Indeciso com'era, si sentiva bloccato e spesso rimaneva muto e immobile come una statua, anche per giorni interi. Questa è una citazione di Iarieti. Il termine schizofrenia deriva dal greco e significa mente scissa. Il termine lo dobbiamo allo psichiatra svizzero Bloiler nel 1908, il quale lo utilizzò per sostituire la vecchia accezione data da Emil Kraepelin che nell'ottocento parlava di demenzia precox. A dispetto della terminologia, la schizofrenia non indica una condizione caratterizzata da una doppia personalità o personalità multipla. Il termine indica infatti la separazione delle funzioni mentali tipica nel quadro sintomatologico della malattia. Secondo l'APA, l'American Psychological Association, i sintomi della schizofrenia possono essere molto diversi tra loro, così come i fattori scatenanti, il decorso e la risposta al trattamento. Il caso di Richard mostra come il ragazzo abbia avuto un deterioramento da un livello normale di funzionamento fino ad arrivare ad una compromissione del funzionamento stesso. I sintomi della schizofrenia possono essere distinti in positivi, pensieri, emozioni e comportamenti eccessivi, negativi, assenza di pensieri, emozioni e comportamenti, psicomotori, movimenti o gesti insoliti. La schizofrenia è pertanto un disturbo psicotico in cui il funzionamento personale, sociale e occupazionale si deteriora a causa di percezioni strane, emozioni insolite e anomali emotore. I sintomi positivi sono eccessi patologici o bizzarri del normale comportamento della persona. Tali sintomi sono ad esempio pensiero ed eloquio disorganizzato, percezioni amplificate, allucinazioni e affettività inappropriata. Molte persone presentano inoltre dei deliri, ovvero delle idee di cui sono fermamente convinti ma che non hanno alcun fondamento reale. Sempre secondo l'APA nel 2000 i deliri più comuni sono il delirio di persecuzione in cui la persona è convinta di essere oggetto di cospirazione, di essere spiata, calunniata o deliberatamente attaccata o vittimizzata. Possiamo avere deliri di riferimento secondo cui ogni evento viene ego riferito e ci si sente continuamente oggetto di una data cosa. Nel caso di Richard ad esempio, il semaforo rosso che viene interpretato come un segno di non dover procedere. Abbiamo poi deliri di grandezza, le persone si credono inventori o figure religiose o storiche importanti. Delirie di controllo, pensare che i propri pensieri e sentimenti o anche le azioni siano controllati da altre persone. I sintomi negativi sono apparentemente deficit patologici, caratteristiche quindi mancanti in un individuo, il loco impoverito, affettività inadeguata, assenza di evoluzione e isolamento sociale. Pensavo che le voci che sentivo fossero trasmesse attraverso le pareti del mio appartamento, attraverso la lavatrice, attraverso l'asciugatrice e che le macchine mi parlassero e mi dicessero cose. Questo ad esempio è ciò che riferisce un paziente. I sintomi psicomotori comportano l'averemovimenti goffi, smorfie o gesti stereotipati. Le persone affette da schizofrenia possono incorrere in catatonia, ovvero stupor catatonico, che comporta che le persone non reagiscano all'ambiente circostante e restano invece immobili e silenziose per lunghi periodi di tempo. Nella rigidità catatonica le persone restano in posizione retta perure, resistendo ad ogni evento e ad ogni tentativo soprattutto di farle sedere. Altre persone assumono una postura fissa, ovvero posizioni altamente scomode e bizzarre. Altra forma di catatonia è l'agitazione catatonica che comporta invece una forte agitazione motore e frenetici movimenti di braccia e gambe. In genere l'esodo della schizofrenia avviene tra la tarda adolescenza 35 anni. Il decorso della malattia sembra molto variabile ma consta di tre fasi, fase prodromica, attiva e residua. Nella fase prodromica i sintomi non sono ancora evidenti ma è presente una disfunzione nell'individuo che può ad esempio isolarsi socialmente oppure può parlare in modo vago e avere delle idee bizzarre. Nella fase attiva, talvolta scatenata da fattori di stress, i sintomi si fanno evidenti. Nella fase residua si ritornano a un livello di funzionamento simile a quello della fase prodromica. I sintomi più gravi della fase attiva si attenuano ma possono persistere quelli negativi come l'emotività inadeguata. Dalla schizofrenia si può guarire, guarisce in media un quarto delle persone colpite anche se la maggioranza dei malati continua ad avere qualche problema residuo per tutta la vita come Fisher e Carpenter nel 2008 riferiscono. Con le persone, perché non dimentichiamo che nessuna e la sua malattia si possono comunque attuare dei bellissimi percorsi di intervento e di rinunciamento sociale, volte al recupero non solo delle abilità sociali ma anche cognitive. Bene, anche per oggi il nostro approfondimento è giunto al termine e spero che sia stato di tuo gradimento. Se ci sono curiosità, feedback o interagire con me puoi lasciare un commento sarò bellissima di risponderti. Ti lascio con il motto del nostro canale che finisce bene quel che comincia male e mi raccomando non slacciare le cinture che il prossimo appuntamento del pensiero non lineare ed in viaggio con la psicologia sarà a breve. Grazie ancora per il tuo tempo e alla prossima. Ciao!